un cordiale saluto da jack bonora è tempo di aggiornamenti perché il master del poker grand prix griffato gd poker prosegue alla grande se abbiamo iniziato in 90 con un montepremi garantito di 200 mila euro per un bain di 1650 adesso il campo si sta assolutamente restringendo il monitor parla chiaro e anche la sala vuote i giocatori sono in pausa stanno rifiatando ci dice che sono rimasti in 57 quando siamo al settimo livello di gioco con bui 300 600 e ante 50 sono usciti alcuni dei grandi nomi di questo torneo 16 giocatori andranno a premio e sarà moneta sonante e importante sono usciti giocatori come alessandro speranza pensate il primo giocatore eliminato di questo torneo un giocatore griffato gd poker e legittimamente uno dei migliori giocatori italiani beffato col suo asso k che incrocia kk lorenzo battistello protagonista del grande fratello numero uno sergio castelluccio che a marzo ha giocato il tavolo finale del cd poker arrivando terzo irene baroni terza all'ultimo evento griffato gd geomaresca anche per lui a suo tempo un tavolo finale danilo patella che era uscito nono nell'ultimo gd poker beh insomma ragazzi la verità è che qui il livello evidentemente un po come nel calcio sta cambiando non ci sono più quelli tanto forti e tanto scarsi la verità è che la forbice si è ristretta gli italiani imparano sempre di più a giocare a poker per carità ci sono quelli più bravi però la verità che sul singolo evento la possibilità anche per quello meno quotato di cambiare le carte in tavola in senso figurato ovviamente esiste e quindi 57 giocatori e ancora tante emozioni da vivere come peraltro se ne vivranno domani con il rounder da 550 euro che inizia alle ore 15 il flash da 250 alle ore 20 con una classica struttura turbo estremamente veloce tipica dell'online domenica imperdibile il tavolo finale del rounder e soprattutto il tavolo finale televisivo del master diretta streaming tutta quanta da gustare e ci sarà anche alle 14 l'inizio del torneo starter da 220 euro insomma ci attende una giornata di domani con il dei due estremamente intensa e una domenica che sarà assolutamente magica ma questa è appunto la magia griffata gd poker griffata poker grand prix state con noi grazie a tutti grazie a tutti